Non potevano mancare le degustazioni di cuccia in centro storico il giorno di Santa Lucia. Ieri a Sciacca in Sala Blasco recupero delle tradizioni da parte degli studenti di diverse scuole di Sciacca. Tra enogastronomie e contributi artistici e letterari coinvolti i ragazzi degli istituti superiori Caloggio Ramato Vetrano, Don Michele Arena, Tommaso Fazzello e il liceo scientifico Enrico Fermi di Sciacca. La tradizione di preparare la cuccia il 13 dicembre pare tragga origine da una carestia che colpì la Sicilia a metà del 1600. Si fecero allora delle preghiere per chiedere l'aiuto divino e proprio il giorno di Santa Lucia giunse nel porto di Palermo una nave carica di grano che fu subito distribuito tra la popolazione. La gente per non perdere ancora del tempo per macinarlo e trasformarlo in farina e poi in pane o pasta lo cucinò così com'era. Da allora, in segno di riconoscenza, il giorno di Santa Lucia, ritenuta l'artefice del miracolo, non si mangiano né pane né pasta ma la cuccia come venne mangiata a secoli or sono. Lo ricorda anche Giuseppe Pitre, famoso studioso di tradizioni popolari. Un'osanza che non si è persa e che a distanza di anni anche a Sciacca continua ad essere praticata. E ieri in Sala Blasco non si è solo degustata la cuccia, è stato un vero e proprio recupero delle tradizioni legate al giorno di Santa Lucia, tra letture, canti ed opere artistiche, grazie al contributo dei diversi istituti scolastici intervenuti in base alle proprie peculiarità dei percorsi formativi. Come ha spiegato ieri al nostro telegiornale l'assessore Mondino, per il Natale Insieme 2018 sono state infatti coinvolte tutte le scuole della città. Dai piccoli delle primarie agli studenti delle superiori di primo e secondo grado, tutti gli studenti saranno i protagonisti delle manifestazioni natalizie che si susseguiranno in questi giorni fino al 12 gennaio. Sarà possibile ammirare nelle vetrine delle attività commerciali del centro storico i presepi realizzati dagli studenti, per le vie del centro degustazioni di prodotti tipici siciliane, poi ancora esibizioni di cori, concerti, iniziative di solidarietà, letture e laboratori, iniziative rivolte a bambini e ragazzi di tutta l'età.